Zero Emission Blue Energy Questo è il nome del progetto che H2Bot porterà all'Innovation Village dell'Ocean Race tra i progetti vincitori della Call for Innovation del Genova Blue District H2Bot, Hydrogen 2 Boat, ha una missione quella di rendere carbon neutral la nautica da diporto ossia adottare l'imbarcazione dei sistemi di generazione di energia a zero emissione e per farlo abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia dell'idrogeno Ma che cos'è l'idrogeno? e come può essere utile nella transizione energetica? Nel nostro stand vi mostreremo come l'idrogeno viene prodotto, immagazzinato ed utilizzato a bordo delle barche attraverso video, simulatori e laboratori dedicati per ragazzi di ogni età Inoltre, con il supporto dei ragazzi di Heroes Never Sleep vi mostreremo il ruolo globale dell'idrogeno e gli SDGs dell'Agenda 2030 Se sei scettico e vuoi capire quanto sia concreta la tecnologia dell'idrogeno ma non hai avuto l'opportunità di salire a bordo della barca Nukita durante l'Ocean Race Europe avrai modo di vederle e toccarla dal vivo nel nostro stand e se non ti basta avrai modo di immergeti in un'esperienza virtuale con il visore 3D per salire a bordo dell'imbarcazione BIM e capire come funziona l'Energy Pack di H2Bot Venici a trovare all'Innovation Village